Benvenuti a tutti ragazzi, oggi siamo qua con uno spacchettamento di calciatori panini Official Trading Cars 2023-2024 Ovviamente questi qua sono gli ADN XL Come potete vedere, aspettate, qua Le carte quest'anno sono 471 Io già ne ho un bel po', dopo ve le faccio vedere E quindi ora direi di iniziare lo spacchettamento Però ne apro soltanto uno ragazzi perché appunto è, diciamo, l'introduzione questa Però poi ne aprirò altre Ok, già ragazzi vedo una stella Che ovviamente ha Ovviamente ragazzi Metto al contrario, girata Quindi qua abbiamo il difensore Abbiamo due bigliettini Ok Poi qua, qua la carta la metto qua In modo da farvi capire Più o meno Cosa sto tirando fuori E poi abbiamo queste carte qua Allora, difensore Vedete ragazzi Qua, difensore Centocampista Lo metto qua Poi abbiamo centocampista Centocampista e difensore Quindi le carte che abbiamo sono queste Allora, intanto innanzitutto prendiamo il difensore Abbiamo Federico Di Marco Dell'Inter Ok, qua Non so se si vede Ok Questo Poi abbiamo Rogerio del Sassuolo Qui abbiamo centocampista Centocampista Philip Kostrick Qua come si pronuncia Che do Kostrick Della Juve Altocentocampista abbiamo Marco Mancosu Del Cagliari E poi come l'attocentocampista Emil Boinen Questo qua Ovviamente ragazzi Queste sono carte Easy Ora Passiamo a questo qua Che è la stella di Della Bologna di Orsolini Ci sta come stella Ragazzi vedete anche le stelle sono tipo in 3D Non so se si riesce a capire Ma Cioè, vedete Cioè, sembra più in 3D Ed è molto bella sta cosa Perché Vedete Normalmente è così Ma così Sembra che questa parte Tipo esce fuori Aghi è questa Quindi niente ragazzi Per ora Questo è Quello che sono riuscito a Trovare Ora vi faccio vedere un attimo E come Praticamente E Come è il mio mazzo Andando qua fa vedere ovviamente Come Come trovare le carte Come giocare Questo qua già io Ce l'ho L'ho visto anche Seguici su Instagram Facebook Twitter Questo qua E quindi E quindi niente Questo qua ovviamente Poi si scannerizza con l'app E praticamente Potete vincere queste cose qua Cioè Scannellizzando voi Nella Nell'app Avrete Dei pacchetti digitali Ma se poi Qua con i cuponi E cose Potete vincere Questo O questo Comunque ragazzi Ora vi faccio vedere Il mazzo mio Che ho Allora ragazzi Il mazzo che ho Ovviamente ragazzi Io sono milanista Quindi Come vedete Milan Ragazzi sono riuscito a trovare Il top player Di Leao Ovviamente Ho un altro Doppione Dello squadetto De Milan Vedete Poi ho la card Invincipile Alcuni giocatori Del milan Poi ho Un energy Poi ho Il blindato Questi dell'inter Poi abbiamo qua Fantastella Stelle Normali Che ci mettiamo Ora anche questo Ok Poi ovviamente Diamante Masterclass Energy Blindato Scudetto De Lazio E qua Carte ovviamente Di tutte le squadre Normali Tutto normale Quindi questo è il mio Pazzo ragazzi Farò poi la parte 2 Dove Spacchetterò Ora un altro Pacchetto Cioè questo qua Questo qua è un altro Pacchetto ancora Integro Vedete Che è lo stesso Di prima Intendo di giocatori E Nella prossima parte Lo spacchetterò Quindi Dopo farò la parte 2 Ciao ragazzi